amici buongiorno ovviamente per iniziare questa giornata alla grande si vuole belle celice però in questo giardino splendido del parador della palma cosa si può vedere di più ragazzi una colazione con questa vista qui dal parador incomincia così e venite con noi a scoprire questa meravigliosa l'opiscio cosa stai facendo qui mi informo sì sì perché qui stiamo parlando dal 1928 qualità mobilità e leggenda quattro stelle ragazzi non lascio il toluca chiaramente che strano sei veramente sempre la stessa le donne sono le donne quindi ragazze anzi donne no vi invito tutti entriamo a guardare questo splendido paradoris musica iscriviti al canale bello eh ero a vedere la sala ristorante beh devo dire che questo spazio enorme qui dalla reception subito questo giardino con la fontana all'interno mi ricorda un po' il parador della palma sono un po' gli stili sono questi effettivamente però se quello è giardino qui c'è un'area bar ragazzi bellissimo molto elegante e qui usciamo dove abbiamo fatto colazione ragazzi adesso ve lo facciamo vedere giù eh sì decisamente fantastico proprio aperto è bello perché c'è una tranquillità incredibile è una cosa molto importante ragazzi è pet friendly quindi potete portare i vostri amici animali wow 1 2 3 4 ciao 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 andiamo a vedere queste camere spettacolari ragazzi allora queste sono le camere vista al mare ok quindi ci sono quelle senza vista e con vista non si differenziano se non per questo un bel bagno luminoso ragazzi con la vista sul giardino che spettacolo ovviamente ovviamente water e bidet tutto veramente molto particolare con questi dettagli molto curati ragazzi classico del parador questo palchè caldissimo abbiamo anche per chi volesse la cassaforte cassaforte ma il pezzo forte ragazzi ovviamente è la vista che c'è dai su intanto vi faccio vedere guardate che bella camera calda accogliente perfetto stile parador ovviamente con queste poltrone eccezionali guarda e la vista spettacolare da questa camera wow ragazzi guardate qua con la giornata di oggi questo è sicuramente la vista preziosa del parador meravigliosa ragazzi spettacolare e questo è l'area giardino a roma e il giardino a roma di tutto adesso andiamo a vedere molto carino un tuffo nella natura ragazzi c'è un po di vento oggi ma fa niente a noi a noi non ci ferma nulla nulla temerari con il vento con l'acqua con le intemperie sempre in giro per voi ragazzi toda canarias vi porta a vedere il giardino di questo parador spettacolare con questo tuffo nella natura qui alla isla bonita con una vista sensazionale beh ovviamente qui l'aria è pulitissima una favola ma questo gazebo con tutta l'edera bellissimo peccato che ecco quasi quasi un bel tavolinetto due sedie uno spettacolo ragazzi che bello e ovviamente come è giusto che sia ci sono panchinette sedie in giro per tutto il giardino in modo che potete venire qui e passare dei momenti in completo relax e da questo incantevole giardino il parador della palma noi vi ricordiamo che hanno 78 camere a disposizione quindi grazie alla collaborazione con il world tour operator abbiamo delle convenzioni ragazzi se volete sfruttare di questa splendida isola vi aspettiamo tutti al parador della palma 1 2 3 4